Caro Mr. Marshall, sono Andrea Cionci, giornalista italiano, da vent'anni scrivo per i principali quotidiani nazionali. Da quattro anni mi occupo a tempo pieno dello studio delle dimissioni benedetto sedicesimo. Ho pubblicato 900 articoli, 950 podcast, ho fatto 132 conferenze, ho pubblicato un libro che ha vinto due premi giornalistici. Non ho particolare interesse nel mettere a repentaglio la mia reputazione professionale per scrivere stupidaggini. In tutto questo tempo ho analizzato grazie a un pool di latinisti, storici della Chiesa, giuristi, canonisti, filosofi, avvocati, magistrati, eccetera, la questione delle dimissioni di Papa Benedetto XVI. Lei ha recentemente intervistato Monsignor Carlo Maria Viganò, il quale dice che la rinuncia di Benedetto XVI per i vizi di procedura e per il monstrum canonico che ha prodotto è certamente invalida, come ha spiegato il professore Enrico Maria Radelli. L'invenzione del papato emerito ha minato ulteriormente il primato peretino e ha aperto la strada a quel papato scomposto in una divisione surreale di munus e ministerium senza basi teologiche. Ecco, mi permetta, c'è un unico caso in cui il Papa può rinunciare al ministerium trattenendo il munus ed è quello della sede impedita. Tra l'altro non rinuncia nemmeno a tutto il ministerium, cioè all'esercito del potere a fare il Papa, ma solamente alla parte pratica. Il Papa è impedito e rinuncia alle opere e alle parole, ma trattiene il soffrire e il pregare. Perché? Perché prigioniero è impedito. Si tratta di un congegno anti-usurpazione che è stato preparato molti anni prima, sfruttando ciò che era il nuovo diritto canonico sovrinteso da Ratzinger nel 1983, l'inserimento appunto della necessità di rinunciare al munus nel canone deputato all'abdicazione, cosa nella Universi Dominici Gregis del 1996, che Ratzinger certo non poteva non sapere, dove si ripete che l'abdicazione del Papa deve essere a norma del canone 2. Questa Universi Dominici Gregis viene ulteriormente emendata con il motto del 22 febbraio 2013, quindi Benedetto XVI non poteva non sapere che il Papa deve rinunciare al munus per abdicare, ma lui non voleva abdicare. Ho fatto tradurre la declarazione da tre latinisti molto famosi di rango universitario che hanno tutti e tre sottoscritto come si tratti di un'empedita. Il papato emerito è nient'altro che un eufemismo per dire papato impedito. Perché? Perché visto che il munus del vescovo è un sacramento, questo rimane in modo eterno. Quando il vescovo va in pensione, perde il ministerio, trattiene il munus perché è un sacramento. Abbiamo quindi due vescovi, uno attivo e uno in pensione, tutte e due hanno il munus della loro diocesi. Questo per il Papa può avvenire solo per sede impedita. Perché? Perché è un primato di giurisdizione, è un ufficio, un incarico, non è un sacramento. Tanto che mentre il vescovo viene ordinato viene eletto. Quindi Benedetto XVI, con la geniale qualifica di Papa emerito, ci ha detto che lui era un Papa impedito. Ha fatto in modo che noi lo capissimo poco per volta. Quello su cui concordiamo con il professor Radarelli è che la rinuncia è nulla invalida. Allora, benissimo, perché Monsignor Viganò non impugna questa rinuncia a nulla invalida? Come vede gli articoli 76 e 77 dell'Universi Dominici Gregis ci dicono che se la rinuncia del pontefice non è a norma del canone 332.2, l'elezione che ne segue è nulla invalida. Come forse saprà, il 6 giugno scorso io stesso ho depositato presso il Tribunale Penale dello Stato della città del Vaticano una denuncia, un'istanza sulla nullità della dedicazione di Benedetto XVI per le stesse cose che dice il professor Radarelli, ma con il congegno anti-usurpazione che in modo scientifico Papa Benedetto ha applicato. Perché la tesi del doppio papato modernista, del Ratzinger eretico e forse in demenza senile è una fake news? Perché lui stesso ci fa capire come sia stato perfettamente consapevole nel produrre questa sede impedita, ma ce l'ha fatto capire in modo graduale, per esempio dicendo il Papa è uno solo, sono il primo Papa a dimettersi dopo mille anni e tutta una serie di altri messaggi in restrizione mentale larga, che lo trova su qualsiasi manuale di teologia morale, è un modo per dire la verità in modo sotto. Fatto Benedetto XVI. Come ho documentato, lui a Cuba ci subisce un attentato. Ecco, le faccio solamente riflettere sul fatto che dopo la sua morte Peter Sevald ha rivelato che il motivo centrale delle dimissioni di Benedetto arriva di insonnia. Io ho documentato come abbiano utilizzato il fatto che lui assumesse tutte le sere degli alti livelli di sonnifero per tentare di farlo fuori somministrandogli una dose di farmaci psicoattivi nella giornata del 26 marzo 2012. Una cosa che io ho inserito nella mia denuncia al Tribunale Vaticano, supportata dai pareri di anestesisti, farmacologi, psichiatri eccetera. Quindi non stiamo scherzando. Benedetto XVI. Minacciato ha capito che se lui fosse morto avrebbe avuto luogo un conclave valido. Così ha utilizzato le leggi della Chiesa. Si è offerto alla sua sede impedita come il Cristo si offre alla sua crocifissione. Quindi una perfetta coerenza fra diritto divino, diritto canonico, teologia e scatologia. Papa Ratzinger si fa detronizzare dalla convocazione di un conclave abusivo, entra in sede impedita e ci rimane fino alla morte. Che cosa sortisce tutto ciò? Che tutto quello che ha fatto Bergoglio deve essere annullato dall'inizio alla fine e con questa mossa lui ha anche scismato tutta quella parte della Chiesa che non è mai che è passata all'ognosticismo o che è sempre stata dalla parte di una Chiesa del diavolo come dice il teologo Ticonio, molto amato da Ratzinger. Come vede sono questioni che invitano sicuramente di essere presi in esame, anche perché se io avessi ragione, se io stessi dicendo la verità e non avessi cittadinanza, se non avessi modo di esprimere il mio studio, c'è il rischio poi di non riconoscere il sacrificio del vicario di Cristo. Se Cionci ha ragione, Benedetto XVI, come Gesù si è sacrificato per salvare la Chiesa, se non si dà modo a Cionci di esprimere quello che lui ha studiato nel corso di questi ultimi anni, essendo lui la persona che sul pianeta di tutti ha studiato la questione, c'è il rischio che il sacrificio del vicario di Gesù non venga compreso. Questo equivarrebbe a ritenere che il Cristo sia morto perché è scivolato su una buccia di banana. Quindi attenzione perché da un punto di vista della fede si entra in un ambito molto rischioso. Per questo io le chiedo se volesse farmi la cortesia di ospitare un'intervista al sottoscritto, parleranno per me due persone qualificatissime, professore della John Cabot University o una dottoressa in filosofia perfettamente madrelingua, io purtroppo non ho una conoscenza dell'inglese sufficientemente fluente per rispetto dei suoi spettatori, mi affiderei a queste due persone. Le chiedo di pormi delle domande sulla questione della sede impedita di Benedetto XVI e del mio studio e di darmi cittadinanza, come è stata data fino adesso, anche ad altri studiosi delle dimissioni di Papa Benedetto. Lei è un bravissimo giornalista cattolico, i cattolici non temono la verità. Ribadisco, il mio studio è talmente documentato, talmente serio che mi sono esposto con 5 avvocati nel depositarlo presso il tribunale penale della città del Vaticano. Concordo sul fatto che la rinuncia di Benedetto XVI sia nulla invalida, considero che il professore Enrico Maria Radelli sia completamente fuoristrada sul perché questa declarazione di Papa Benedetto è nulla invalida. Attenzione, perché c'è anche il rischio, se non si dà modo di sentire l'altra campana, che si affermi questa versione di un Ratzinger eretico, modernista, rimbambito eccetera, che scredita in modo orribile la figura del Papa, del Santo Padre Benedetto XVI, ma anche di tutti i Papi precedenti. I Papi del Concilio sono stati delle vittime di un'aggressione gnostico-massonica che con il momento del Concilio sfonda la porta. Quindi sono due visioni molto diverse. Da una parte c'è una visione che tende a colpevolizzare il Vicario di Cristo, a farlo passare per eretico, modernista, insieme a tutti i Papi postconciliari. Io ho dimostrato come i Papi postconciliari, a partire da Paolo VI, mettono in piedi un'indagine sulla massoneria ecclesiastica, degli emendamenti al diritto per arrivare a un congegno estremamente raffinato ed estremamente intelligente, anti-usurpazione per far fuori la massoneria ecclesiastica. Purtroppo nel mondo tradizionalista, specie anche americano, ci sono dei blocchi da parte di alcuni gerarchi che non vogliono che questa questione della sede impedita esca fuori. Perché? Perché c'è un mondo di interessi e di rendite di posizione da tutelare. Quindi è meglio spacciare la favola dei Papi eretici, modernisti, addirittura non Papi, quindi questo poi da modo di entrare nell'eresia del sedevagantismo, che va contro il dogma dell'indefettibilità della Chiesa. È meglio questo piuttosto che non riconoscere il sacrificio gigantesco che ha fatto un santo come Benedetto XVI. Non ci crede? Le chiedo di darmi possibilità di parola, possibilità di esprimere i risultati di quello che è lo studio più articolato e che non è mai stato compiuto sul pianeta Terra in merito alle dimissioni di Benedetto XVI. La ringrazio per avermi ascoltato fin qui. Un caro saluto a lei e a tutti i suoi spettatori. Da Roma, da Andrea Cionci.